Hola io sono Marcus Krohn e benvenuti nella non so come cazzo si chiama è una serie provvisoria perchè la tech ambigraft non funziona e la shalagraft 2 non è pronta e sono senza skin Signori questa qui è il lord of the ring mod pack che potete trovare guardate come sta funzionando di merda la waila che ho aggiunto io manualmente infatti si vede Che potete trovare nel void lunch e Mortacci 2 quanto sei alto Parabam Parabam Chacobo Zabling Allora ragazzi, questa qui è una serie provvisoria ovviamente, l'ho scelta perché non richiede un grande impegno, non è tecnica, qui c'è una scala, qui c'è una chest, e unisce, anzi no, ma sono in creative, oh mi dispiace molto essere in creative, ed unisce un sacco di cosette, fantasy, non fantasy, ho visto che c'è la tinker, ci sono cose carine, Cosa carina, che gradirei non essere spoilerate, perché comunque io c'avevo bisogno di giocare a Minecraft, perché non perché me ne freghi un cazzo sinceramente delle visualizzazioni e possa fare questa serie, ma perché a me piace il gioco in sé per sé, e sebbene mi ruota parecchio il culo per la Tekken Minecraft, devo dire che cominciare a prendere il legno è una delle parti che io preferisco, Pimpi ripimpi laggiù c'è un Enderman, e soprattutto qui ci sarà da divertirci, ci sono parecchi nemici, cioè parecchi mob aggressivi, quindi, legno, abbiamo visto che ci stanno i Chocobo, abbiamo visto che ci stanno queste strutture, io prenderei il legno, che bello vedere il legno che non lagga, il legno che non lagga, E vedrei se c'è, come faccio a mettere il, non ci sono i Waypoint, no, ce li devo aggiungere, c'è l'Ars Magica, c'è l'Armorgui, Reload Capes, no, mi servono i Waypoint, ragazzo, mi servono molto, Comunque facciamo il nostro Cassius Clay di legno, ok, la mettiamo qui, molto bene, e ci facciamo i nostri tool del Cassiopeas, ci facciamo una spada, no, perché ci facciamo una spada, ma che faccio? Ma cosa vado a fando? Opera, mi ricordo quando Minecraft dovevi fare uno, due, tre, che bolle che erano, è vero, rimane dentro, fantastico, ma è fantastico, ma è maraviglioso, ok, prendiamo tre cubettozzi di questo schifo, Oh, voilà, e ci facciamo un ottimo, un ottimo tool di stone, thank you very much, pipiripipipipi, no, molto più veloce, ok, faccio il, faccio lo strumentos, qui c'è la mossy stone, chissà che posso fare con la mossy stone, posso farci qualcosa con la mossy stone? Posso farci il bull of moss, ah, quella cosa che fa riparare, figo, ok, niente di che, da posto, me ne prendo, me la prendo, prendiamo un po' e ci facciamo i tool di, ho visto qualcosa accadere, ma, facciamo il tool e poi andiamo un po' all'esplorazio, va buona, va buona, ok, ho fatto un set, ho fatto un letto e ho fatto delle torce, andiamo un po' all'esplorazio, laggiù ci sono i fiori dell'art magica, dei chocobo, qui c'è un enderman, cazzo ci sono più, ma che cazzo, ma che cazzo, mi rompe il culo, mi rompe il culo, è vero, mi rompe il culo, mi rompe il culo, sono sicuro che tu mi potresti rompere il culo, io mi do, arigato, via, damo se, ok, ok, che cazzo sei tu, ender golem, ma vaffangula, dov'hai oh, oh, dov'hai, ciccio, vieni qua, ciccio, ma quindi sta a difesa di quella casa, ma, 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 è bellissimo, ok, Ok, ehm, dormiamo, che cos'è quello? Oh, mio Dio, cos'è quello? No, aspetta, questo me lo riprendo, questo me lo riprendo, questi me li riprendo, perché sai com'è? Eh, so, tipo, boni, erlegno, ok, andiamo a vedere, dov'era? Stavo qua giù, oh, ho perso, devo mangiare, gnammi, 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 ok, eccolo, eccolo qua, oh, oh, Cristina Davina, ho paura, Quanto sono l'hammer, quanto sono l'hammer, con la cobblestom, totom, ma tu non c'entri, mortacci tua, mori, 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 vieni qua, mori, ti rompo il buco, ti rompo, dai, vieni sotto, stacce, stacce, aiuto, aiuto, dai, Namo, questo è stato per culo, ah, Namo, arrivano quelli piccoli per un polarbook, che ci passano sotto, aiuto, aiuto, scusa, scusa, non volevo davvero, eh, dai, ok, ancora uno, ancora uno pure io, sono morto però, eh, sì, è morto, è morto, che mi ha dato, bellissimo, andiamo nella tana, mi ha dato un ender golem horn, che sei? Bellissima, la nightfall sword, ottimo, ora però io ho un problema, non ho da mangiare, se uccidessi questo cosciocobo, sciocobo, 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 non dava le cosciotte, no, mi sono macchiato di assassino, che cazzo sei tu, scusa, sei cattivo? Oh, ma, bello, ragazzi, una struttura No, credo che siano malvagi, sono malvagi, sono malvagi, sono malvagi, è un mondo di tenebra, è un mondo di pecora Non mi sta inseguendo, vero? Ok, allora, no, ci serve, ci serve da mangiare, oh, il cosciotto, ricordavo bene Prendiamo questo, prendiamo questo, prendiamo questo, ok, abbiamo ucciso tutta la popolazione, tipo, uno squid Che ci faccio voglio squid? Beh, squid, muori, muori e muori, molto bene, devi morire, ottimo Allora, io direi di fare una sansotta a questo punto, una sansotta qui Vediamo un po' se c'è per Messico Vediamo se, che succede, a parte che se casco e se mi uccido, mi sparano, sono tipo morto No, non ce se la fa, ok Allora, chiudiamoci un attimo a dentro Ok Ok Mi chiuderei anche qua sopra Ma non ho abbastanza cose È proprio un mondo difficile quello dell'avventuriero nel mondo di coso Di questo coso Ok, allora, butterò qui il lettozzo Qui non c'ho assolutamente niente Mi serve da mangiare, mi serve da mangiare assolutamente Facciamo una fornese, la mettiamo qui Ok, ci metto dentro questo e mi può qui Oh, due me ne ha dati, ottimo Intanto Non codo in metà tanto Voglio andare a vedere il tool for questo qui Che si fa con stick e legno Quindi posso farlo se andassi a comprando un po' di legnando Diciamo, vediamo quanto ci dà Eeeh Ma è putente Ma è putentissima Ok, ok Ci siamo risanati Facciamo una bella porta Ushu Ushu E la mettiamo Certo che se vengono degli zombie Cioè no, degli zombie Degli scher... Scush Scush, davvero Non volevo Eeeh Devo usare tutto il materiale che ho preso E che cacchio E che cacchio Facciamo così Tappiamo qui Tappiamo qua E tappiamo anche Zio Topolino Adesso io mi acciappo un po' di legnone Giusto per fare una casetta dove Tipo respawnare Perché voglio fare assolutamente la vita non sedentaria Voglio andare in giro Chissà se abbiamo gli strumenti per andare in giro Ad esempio La Gravestone Oppure Devo mettere i Waypoint Mi sa Mi sa di sì Mi sa di sì Mi sa di sì Laggiù c'è una giangla Intanto abbiamo trovato comunque una struttura Che questa probabilmente sarà la nostra Prima tappa Vieni qua Nella seconda puntata Ton 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 Toro ton Toro ton Toro ton Toro ton Perché l'ho fatto dentro la grafting Non c'ha senso Ton 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 Eeeh No Perché ha sdroppato Non lo so Ton 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 Toro ton Toro ton Brrrr Brrrr Guardate che casetta ho Eeeh Eeeh Come 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 Mi sono trovato un alloggio bellissimo Ma è bellissimo Ok Eeeh Andiamo a fando Andiamo a fando Andiamo a fando Quel coso La Della Cicci Puzzi Molto bene E poi ci facciamo Va molto bene E qui prendiamo Altro ciocco di legno Andiamo a fando Le armature Le armature Intanto le armature Armor Oh my gosh No Chest Uh non c'è la L'iron chest Cazzo E va bene Quella Quella di legno Di chi è? Della tinker Ok Ah no posso farla così E basta Senza dover Piripipare il parapappero Ok Mentre di qua Mi serve quello Di Dei pattern Pattern Uh ma c'è la chisel Ma è bellissima Ma è meravigliosa Eeeh Quindi 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 Devo fare un blank pattern Metterlo qua dentro No Qua dentro No Mi manca uno strumento Uh Tinker Tinker construction Tinker Mi sa che È lo stencil table Yes Facciamo veloce Siamo ovviamente Questo stencil table Che è già messo a rotto Il cacchio De fa la tinker Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Ok Dovrebbe essere questo No Questo è un ciocco di legno Ehm Sì 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 Perfetto E adesso facciamo tanti 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 batter Chissà che posso fare di bello Alla prima puntata Non so proprio Mettiamo qui Ok E possiamo fare I fregni di Nonnaパvera ok che basta 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 sti cazzi ci siamo preparati le cose in realtà se non sbaglio possiamo anche fare le cose di sugar canes quindi qui ce ne sono in abbondanza e poi dovremmo prendere la clay ottimo direi eccola qua uh ma che bello clay servita su un piatto d'argento no no nuota ok in realtà non so assolutamente quali altre mod ci siano cioè nel senso so che ci stanno mod che mettono armi png mobs e cose del genere e sarà un piacere esplorarle con voi per chi non l'avesse capita chi volesse rompere i coglioni nel nei commenti il pack si chiama lord of the ring pack e sta sul void launcher yeah void launcher solo per i veri marcos crom sciopatù sotto questo suolo io senza waypoint sono perduto dove cazzo sta a casa mia sta qua si 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 sta qui giuro che sta qui sta qua non lo so comunque a sto punto a questo punto io direi di fare così ce ne servono giusto giusto 32 si 32 32 32 andiamo un poco che cazzo ma no 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 ce ne sono due di quei uh l'acqua dell'art magic ci sono due di quegli ender golem e si sono incastrati uh lamer lamerissimo me l'ha data no non me l'ha data vediamo no non me l'ha data oh mortocci due No, 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 no Non va bene Non va affatto bene Va malissimo Anzi Porca puttana Ok Allora, ragazzotti Qui si sta facendo notte Io termino qui questa prima puntata Fatemi sapere nei commenti se vi piace E... Per la prossima puntata Mi studio qualche cosa che posso farmi per la tink E per andare a esplorare queste torri qui Queste qui Che dovrebbero esserci delle ceste E laggiù c'è una specie di castelletto Con dei PNG che ci vogliono rompere il book Ma noi li romperemo a loro Date un nome a questa serie Pensavo alla Gandalf Craft Però potrebbe... Non lo so Ditemi voi Ciao